Appuntamento con il motocross sabato prossimo 15 luglio nella frazione Campolifano di Prezza con l'MX Promotional Day. Si tratta di una giornata promozionale organizzata dalla Wisp Abruzzo e dal motoclub Popoli Offroad. Non sarà una gara vera e propria, precisano gli organizzatori, ma ognuno dovrà mettersi alla prova cercando di migliorare la propria performance. Sarà una manifestazione a tempi dove ogni partecipante proverà a battere il proprio tempo personale e fare un buon tempo a fine giornata. L'evento è aperto a tutti i tesserati Wisp e non solo e sarà possibile iscriversi direttamente sul posto nella giornata del 15 luglio. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8.30 e si possono iscrivere tutti i possessori di un motocross o un enduro aventi licenza Wisp e non. Durante la giornata, sia la mattina che nel pomeriggio, c'è questa manifestazione e l'ingresso è libero per il pubblico. Per i tesserati Wisp il costo dell'iscrizione è di 25 euro con un'aggiunta di 10 euro per i non tesserati. Verranno effettuate prove cronometrate con Trasponder che rappresenta il miglior modo per godersi la pista sia per i principianti che per i più esperti. La posta in palio è quella di battere il proprio tempo. Questa prerogativa renderà l'appuntamento molto impegnativo e suggestivo da non perdere il 15 luglio a Campodifano per tutti gli appassionati di motocross e enduro.